Giovedì 17 febbraio 2022, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, dal canale YouTube sempre dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dal nostro studio in via Cavor 3 a Belluno, Marco Crepaz vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Noi cominciamo con la lettura dei titoli presenti nelle prime pagine del Gazzettino e Corriere delle Alpi, partiamo con il Corriere delle Alpi, ecco come si apre l'edizione di oggi, di giovedì 17 febbraio, Sanità, l'USL senza personale, altri servizi in appalto, il trasporto campioni ad un'azienda altoatesina, una SRL per i turni medici di soccorso a Pieve. L'approfondimento lo troveremo all'interno di questa edizione del Corriere delle Alpi che dedica invece spazio come foto di copertina a due grandi risultati che riguardano lo sport bellunese, rispettivamente il calcio e la palla a volo. Questo è il titolo, due trionfi, giornata da incorniciare per Dolomiti, Bellunesi e Darolde. Grande giornata per lo sport bellunese, ha iniziato la Dolomiti Bellunesi che ha passato sul campo del Mestre, avanti sul rigore di Posacco, i Biancos hanno subito il pareggio ma ci ha pensato Onesco a regalare tre punti pesantissimi ai ragazzi di Lauria. In serata una vera impresa alla Spessarena con la Darolde Logistics Belluno che parte male però poi supera al quinto set la corazzata Macerata. Gli approfondimenti di Dapoiane e Ferigo li troveremo da pagina 31 a pagina 34. Altri richiami invece dalla prima pagina del Corriere delle Alpi, Belluno, terapie intensive vuote verso la zona bianca. Si svuotano le terapie intensive in provincia di Belluno, gli ultimi due pazienti rimasti in queste settimane ancora in condizioni gravi si sono negativizzati e così l'USL ieri ha chiuso il reparto Covid e delle rianimazioni. In questa ondata pandemica da dicembre ad oggi sono stati 27 i pazienti che sono stati intubati a causa del virus. In Veneto i numeri del contagio crollano per marzo, atteso il passaggio in zona bianca. A Gordino il papà assolto, la condanna era un incubo sonorinato. Parla l'uomo assolto dall'accusa di violenza sessuale sulla figlia. Ferito nella dignità, devo dire grazie a mia moglie. L'approfondimento di Sosso a pagina 26. E ancora Belluno Centro Storico, il consorzio si rinnova e scommette sul futuro sette nomi nel nuovo direttivo con l'ingresso di due giovanissimi. Stasera al nome del nuovo presidente, l'approfondimento di Saltini a pagina 15. E gli approfondimenti invece del Corriere delle Alpi ci portano a Cortina il mito della Vespa tra le pareti di casa Museo Agilardona. L'approfondimento di De Rosa a pagina 28. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino. Come sempre cominciamo con l'edizione nazionale per poi proseguire con l'edizione riferita al territorio bellunese. Ecco come si apre l'edizione nazionale del Gazzettino. Zaia serve il nucleare, questo l'annuncio del presidente della regione Veneto Luca Zaia. Il presidente è il caro gas, trivelazioni in Adriatico non bastano, aiuti alle famiglie in difficoltà. Foto di copertina, la foto di copertina dell'edizione nazionale dedicata a Belluno. Santa Croce già acquistata una struttura trattative per altre. Shopping russo di case hotel sul lago. Un hotel sul lago di Santa Croce acquistato da investitori russi. L'approfondimento di Marsiglia lo troveremo a pagina 13. E sempre dalla prima pagina, cannabis, no al referendum, la legge non si tocca, giustizia, responsabilità delle toghe, stop della consulta. Ok, agli altri cinque quesiti. L'approfondimento lo troveremo da pagina 6 a pagina 7. Richiamo ulteriore per quanto riguarda invece la provincia di Belluno. Limana, contromano sulla rotonda, caccia ai pirati. L'approfondimento di Federica Fanta, pagina 10 dell'inserto bellunese. Se adentriamo all'interno di questa edizione del Gazzettino breve panoramica riferita alle notizie di carattere nazionale e internazionale, la prima notizia che troviamo in primo piano riguarda il caro energia che sta interessando tutto il nostro paese. E non solo troverete una mappa che rappresenta le principali vie del gas e i punti di entrata e di uscita dalla rete nazionale di gas adotti. Vediamo che in questo caso per quanto riguarda il Veneto ci sono due punti che interessano la nostra regione. Quelli principali invece sono punto sulla costa dell'Emilia Romagna e vivia in diverse regioni del nostro paese. Questo è il titolo. Gas aumenta l'estrazione in Sicilia e Mare Adriatico. La produzione raddoppia allo studio l'ipotesi di un commissario ed eroga i paletti per stringere i tempi. Si punta a 2,5 miliardi di metri cubi in più. Von der Leyen, Gazprom, sabota l'Europa. Questa è la dichiarazione. Il metano e la nuova Energy Green consegnata al GSE saranno girati alle aziende più fragili e a tariffe controllate. Ancora girandola ad incontri a Palazzo Chigi tra mattina e pomeriggio anche con il numero uno dell'ENI Descalzi per definire il decreto. Vedremo appunto l'evolversi di questa situazione che sta attanagliando tutte le nostre famiglie e tutte le imprese italiane. Le risposte alla crisi ed ecco la notizia che ha aperto l'edizione di oggi del Gazzettino e che comunque riguarda sempre la notizia appena letta. Zaia, il presidente della regione serve il nucleare e il rischio a spopolare i territori produttivi. Il governatore del Veneto, trivelazioni in Adriatico, non sarebbero sufficienti. Caro bollette, basta ipocrisia e bisogna aiutare le famiglie davvero in difficoltà. L'industriale, incrementare la produzione nazionale di gas, i benzinai verso lo stop e ancora utenze domestiche in Trentino al massimo risparmio con il mercato libero. Il nodo delle concessioni, fondi stranieri a caccia di spiagge e porti italiani fanno gol alle aree di pregio in Veneto, Emilia Romagna, Liguria, Lazio e Toscana. La Feder Balneari dura, gli investimenti dell'impresa a rischio serve più tempo. Notizie che riguardano adesso l'Europarlamento. Alcol al whey cambia il testo, non nocivo il consumo in sé. Ok agli emendamenti in difesa del vino, via le avvertenze sanitarie dall'etichetta. Non è l'uso in sé a costituire fattore di rischio per il cancro, esulta il nord-est. E hanno detto a tal proposito, Bizzotto, non abbiamo ancora vinto la guerra in vista a altre follie. Europarlamentare della Lega, Caon, deputato di Forza Italia, disinnescata l'ottusità dei burocrati dell'Unione Europea. Prandini, presidente col diretti, il Parlamento europeo ha salvato quasi 10.000 anni di storia del vino. Pozza, presidente Veneto di Union Camere, ora mi auguro che lo e tuteli il prosecco sulla questione del prosecco. E adesso un'altra notizia che riguarda il nostro paese, il verdetto della Corte. Toghe no al referendum sulla responsabilità civile, il richiamo di Amato. La consulta mette 5 quesiti su 6 sulla giustizia, non è una scelta politica. La battaglia ora si sposta sul quorum, urne previste tra il 15 aprile e il 15 giugno. Le critiche ha cappato, dire che questa Corte era maldisposta a fermare una cattiveria. L'altra stoccata è al Parlamento, troppo impegnato in questioni economiche e non affronta quelle valoriali. Ma quali erano i quesiti discussi? Carriere separate, i magistrati inquirenti o giudicanti. Il quesito sulle carriere dei giudici molto lungo e complesso, più di mille parole, mira in sintesi a far scegliere al magistrato all'inizio del suo percorso professionale le funzioni della carriera, inquirente o giudicante, obbligandolo a mantenerle per tutta la vita professionale. I passaggi tra funzioni giudicanti e orequirenti comunque già ora sono regolate. Questa è passata. Incandidabilità, scusate. Dal 2012 chi è condannato perde la carica, anche questo è stato approvato. Il quesito abroga il decreto legislativo del 2012 che prevede l'incandidabilità e la decadenza dalle cariche elettive per chi è condannato in via definitiva a una pena superiore ai due anni di carcere. Custodia cautelare, anche questa ha ricevuto un sì, niente carcere nel corso delle inchieste. Il CSM, un quesito per scardinare le correnti, sì via libera al quesito alle candidature per il CSM senza bisogno di un aumento di firme tra 25 e 50, sì anche per i consigli giudiziari, gli avvocati e le pagelle sulle doghe, no invece al voto sugli errori dei giudici. Referendum sulla responsabilità civile dei magistrati non è stato ammesso. La norma esiste dal 1988 e prevede che se il magistrato ha sbagliato, sia lo Stato, che poi si rifà sul PM, a risarcire i danni. Per i promotori questo meccanismo favorisce ingiustamente alcuni funzionali dello Stato, per gli oppositori hanno tutela della serenità di giudizio. Andiamo avanti con le notizie che riguardano la politica. Siamo a pagina 8. Le tensioni nel carroccio, la Lega e le espulsioni. Zaia in aiuto di Pettenà. Ti scrivo io la risposta. L'amico esodale Trevigiano ha processo per aver criticato il segretario Salvini. Il governatore, nessuno vuole morti, ma le contradduzioni vanno presentate. Altre notizie che riguardano il nord-est. Crollo di contagi e ricoveri. Notizie che riguarda l'emergenza Covid. Ora il Veneto vede bianco medici, controlli nelle coppe. Il presidente Zaia. Sono 130.050 anni non vaccinati, di cui 54.000 ora guariti. Lanzarina, assessore alla Sanità Veneta, ha disposto a una ispezione sulla fornitura di personale sanitario. La crisi internazionale. L'Ucraina resta neutrale. L'ultima offerta per la pace con la mediazione dell'UE. La NATO rassicura. L'ingresso di Chieve per ora non è all'ordine del giorno. Draghi a cena con Macron e Scholz. Von der Leyen pronti con le sanzioni. Continuiamo con una notizia che riguarda il bellunese, che di certo troveremo all'interno dell'edizione del Gazzettino di Belluno. E quindi passiamo immediatamente all'interno della sua edizione. La prima notizia che troviamo a pagina 2 è la seguente. Lavoro, paure e opportunità. Questo è l'approfondimento del Gazzettino di Belluno. Ci sarà un lavoro per tutti gli esuberi. Crisi di ACC e Safilo. Bertone, presidente di Confindustria, rassicura. Riceviamo telefonate ogni giorno di aziende che cercano operai, ma bisognerà mettersi in gioco. Se uno vive a mele e vuole trovare lavoro, dovrà essere disponibile anche a spostarsi. Speriamo che trovino nel cambiamento un motivo di crescita personale. Queste due dichiarazioni della presidente di Confindustria Belluno, Lorraine Bertone, che troverete in questa intervista di Davide Piolla. E sempre a proposito delle aziende bellunesi in crisi, con ACC 250 a casa, con noi soluzione immediata per 150. L'amministratore delegato di Sest, Fagioli, svela il piano per l'ex Wambao. La nostra volontà è di entrare quanto prima, anche se serviranno dei lavori. Abbiamo una necessità importante di personale nella nostra azienda di Limana. Questa è la dichiarazione dell'amministratore delegato di Sest, che ha acquisito la CC ex Wambao di Mel. Patrimonio ricci agli eredi. Guglielmo stangato, fatto di cronaca giudiziaria. Il giudice lo condanna anche per abuso di liti temerarie. E andiamo avanti con le notizie che troviamo in questa edizione del Gazzettino di Belluno. Notizia politica che riguarda il capoluogo. De Pellegrin si presenta, Fratelli d'Italia tende la mano. Venerdì l'incontro con la stampa al centro Giovanni XXIII. Subito con lui le liste civiche intesa già in tasca con la Lega. De Carlo dei Fratelli d'Italia. I vetti al nostro ingresso sarebbero deleteri in una città governata da anni dal centro-sinistra. Il carroccio spero si arrivi presto all'accordo finale. La decisione spetta ai regionali. E sempre dal capoluogo una scorciatoia tra via Psaro e via Loreto. ha individuato il punto in cui aprire un varco nel muro in una stradina privata a ridosso di due condomini. Notizia adesso che riguardano Feltre. Rifiuti, anzi il Feltrino. Incominciamo con Pedavena. Rifiuti svolta con il PNRR porta a porta e lettori digitali. Pedavena caccia dei fondi per ecologie e scuole per aumentare l'offerta formativa. Feltre, notizia di spalle. Assalto ai corsi per fare l'orto anche da Bergamo. In pochi giorni già 30 iscrizioni. Un corsista appunto di Bergamo. E sempre dal Feltrino siamo a Querovas. Ladri in azione in canonica durante la messa. Il furto sabato sera a Quero. I malviventi sono fuggiti via con un bottino di 2000 euro. I soldi delle offerte e delle intenzioni. È stato lo stesso paro con Don Alessio Cheso a comunicare l'accaduto alla comunità durante le funzioni domenicali. Un colpo ai conti della parrocchia. Le prese con la crisi. Rincari e bollette da pagare. E sempre dal basso Feltrino. Arsì, due notizie. Un milione e mezzo per l'osi naturalistica. È prevista in località Campania. Ed è il punto forte del programma triennale delle opere pubbliche di Arsì. Ancora Arsì. Strada Colperer Castello Tesino. Chiuso dopo l'abbondante nevicata. I divieti sono scattati di nuovo nella via che porta solo a seconde case. Ma i proprietari protestano. Ed Arsì a Cesio Maggiore. Formaggio Piave. Dop conquista la grande distribuzione tedesca. Con un progetto di promozione e un'app. Il prodotto va a ruba. Di certo non c'era da aspettarsi una reazione contraria adatta alla bontà appunto del formaggio Piave. Pagina 10. Contromanno in rotatoria. Scontro sfiorato. Due uomini a bordo di un mezzo da lavoro. Compiono la bravata. Si filmano e fanno girare il video che poi li incastra. Risate, bestemmi e insulti all'automobilista che precede. Il sindaco non è la prima volta ma le riprese sono una novità. Si filmano mentre compiono un'infrazione al codice della strada. Ridono, sghignazzano, bestemmiano, insultano un'automobilista. Ma questa bravata potrebbe costarli caro. I vigili da ieri hanno in mano il video che testimonia come due persone che sono evidentemente su un mezzo di lavoro, come un furgoncino o un camion. Difatti sui cruscotto si vedono chiaramente attrezzi per l'edilizia. E valegetta di soccorso. Tagliano una rotatoria transitando sull'erba della stessa superando un'automobile di poco. Ed ecco, un'immagine tratta dal filmato realizzato dai due soggetti a bordo. Si vede che il mezzo sta scavalcando la rotatoria. Siamo a pagina 11 del Gazzettino di Belluno. Rivoluzione TV. Rischio spegnimento, cambio della tecnologia il prossimo 25 febbraio. Ma la riaccensione delle locali è prevista solo il 10 marzo. Anche ad operazione conclusa, 23 comuni in provincia rischiano di trovarsi senza copertura di segnale. Gli Annacopulos, media nord-est, non si possono tenere senza informazione locale 100.000 bellunesi. E altra notizia che troviamo in questa pagina del Gazzettino di Belluno. Siamo in Comelico, a Santo Stefano, chiusura della galleria del Comelico Vertice con Anas. I cinque sindaci pronti a dimettersi. Il nuovo Comelico si appella a tutti gli amministratori del Cadore per una pacifica invasione in stazione a Mestre. E adesso passiamo all'edizione del Corriere delle Alpi ed entriamoci al suo interno con le notizie dedicate alla provincia di Belluno. La prima la troviamo a pagina 13 e riguarda la politica del capoluogo. Notizia che abbiamo trovato anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Oscar De Pellegrin anticipa i partiti. Mi candido, sono abituato alle sfide. Domani la presentazione ufficiale della sua lista civica in attesa che il centrodestra definisca i dettagli dell'accordo. E andiamo avanti con pagina 15. Notizia sempre che riguarda il capoluogo bellunese. Il consorzio si rinnova, vogliamo riscrivere il futuro della città. Tra i sette consiglieri stasera sarà scelto il presidente. Al nuovo sindaco chiederemo maggiore collaborazione. E a tal proposito hanno detto Massimo Capraro. Non c'è più tempo da perdere, bisogna organizzare i giovedì d'estate. Andrea Dal Ponte, il capoluogo soffre, ma chi ci amministra sembra non capire queste difficoltà. Miriam De Min, solo le grandi mostre portano tanti turisti. Pochi soci, ci sono negozi in difficoltà. Cristian Marchetti, forse idee nuove nel nostro direttivo. I giovani possono fare la differenza. Gian Battista De Napoli, servono iniziative che riescano a portare in centro le nuove generazioni. Infine Eleonora Cesare, bisogna sfruttare i canali social per pubblicizzare i nostri eventi. E anche il Corriere delle Alpi dedica spazio alla rivoluzione delle emittenti televisive locali. Switch off in arrivo Tele Belluno cambia, passa al canale 75 e ha la sua frequenza. Questa transizione cancellerà molte emittenti. 38 mila belunesi rischiano di non vedere più le tv locali. Sono circa 38 mila i cittadini della provincia di Belluno che rischiano di non vedere più molti dei loro canali televisivi preferiti. Ma la reale dimensione del problema si capirà solo a qualche giorno di distanza dallo switch off del digitale terrestre fissato tra il 24 e il 28 febbraio. Il segnale verrà spento e riacceso, producendo una nuova lista di canali. E per vedere i programmi tv sarà necessario effettuare una risintonizzazione. Problemi di personale? Le province chiedono un incontro a Venezia. Altra notizia che troviamo in questa pagina del Corriere delle Alpi e che riguarda in questo caso l'ente provincia di Belluno. E adesso la notizia che ha aperto l'edizione di oggi del Corriere delle Alpi e che riguarda la sanità e soprattutto la difficoltà nel trovare personale sanitario in provincia di Belluno. Questo è il titolo. L'USL deve dare in appalto anche il trasporto campioni. La carenza di personale nel distretto di Belluno porta alle esternalizzazioni. A Pieve la postazione medica del SHUM resta ancora alla Medical Service SRL. L'articolo affirma di Paola Dallanese. La carenza di personale tra il personale che lavora all'USL 1 Dolomiti sta diventando un'emergenza senza fine. Oltre a medici, infermieri, operatori sociosanitari e autisti di ambulanze, a mancare sono anche le persone deputate al trasporto di materiale sanitario, documentazione e attrezzature da un presidio sanitario all'altro. Per questo motivo l'azienda sanitaria ha deciso di correre ai ripari esternalizzando il servizio alla società Marcas di Bolzano. E sempre dalla sanità, mensa ospedaliere, gara da rifare, i sindacati servono più risorse. L'unica offerta non era all'altezza, a vuoto anche il terzo bando lanciato da Z0. Siamo a pagina 18, appello al governo di Unce Mescopelli, i superbonus anche per i rifugi. L'esponente di Forza Italia riprende la proposta dell'ente, ma De Simoi del CAI di Feltre teme il lungo iter burocratico. Passiamo a pagina 19, il giallo dei contributi. Non ZLS per 25 comuni, c'è la fiscalità agevolata, ma gli esclusi insorgono. Si tratta di fondi per il sostegno dello sviluppo economico, Calligaro, Lozzo e Lorenzago, aree svantaggiate, Vigo no. Quindi questo è un ulteriore approfondimento in merito alla notizia che abbiamo trovato anche nell'edizione di ieri del Corriere delle Alpi. Siamo a pagina 20, notizie che riguardano Feltre e la sanità feltrina. Tumori gastrointestinali, Verona dà un aiuto a Feltre. Decolla il progetto di collaborazione con gli specialisti dell'ospedale Borgo Roma. I casi più complicati vengono valutati congiuntamente con gli specialisti scaligeri. Il programma delle penne nere, conferenza, banda, assemblea, fine settimana con gli alpini. Parliamo ovviamente in questo caso della sezione ana di Feltre. E sempre da Feltre, Massimiliano, una vita a colori sfocati, ora sogna di prendere la patente di guida. Con l'aiuto dell'ottico Paolo Fertonani, il 28enne Feltrino, indossa delle lenti a contatto speciali che lo rendono autonomo. I cento anni di Ernesto Turro, storico custode del castello, una grande festa con i tre figli e gli amici per lo speciale traguardo. Le sue opere in ferro battuto lo rendono l'erede ideale del Rizzarda. Complimenti e tanti auguri anche da parte nostra ad Ernesto Turro. E anche il Corriere delle Alpi dedica spazio al furto avvenuto in Canonica, nella Canonica di Cuarovas. Questo è il titolo. Ladri in azione durante la messa, spariti 2.000 euro in Canonica. Pedavena, sfruttare i fondi del PNR per migliorare i servizi e l'offerta della scuola. Fonzaso, la rotta dei Balcani, in parole e immagini. Parole e immagini dalla rotta balcanica saranno protagonisti della prossima iniziativa organizzata dal centro multifunzionale Dolomitiab. L'appuntamento è per martedì 22 alle 20.30. San Gregorio nelle Alpi, Badole. Ci sono 100 milioni per potenziare le farmacie. La delibera della Giunta chiede a Governo e Regione strumenti efficaci per la montagna. Passiamo a pagina 23 del Corriere delle Alpi. Longarone, raccolta rifiuti meccanizzata, Ecomont punta i fondi PNRR. Messi a punto 5 progetti per ammodernare il servizio in 3 unioni montane. Previste 11 isole ecologiche interrate e 4 con cassoni scarrabili. La società guidata da Ivana dalla Marte intende investire oltre 6 milioni di euro. Altre due notizie. La prima riguarda ancora Ponte e sottopasso di Nuova Erto entra nel piano delle opere. Al Pago, immobili in vendita Imo, martedì in Consiglio Comunale. Borgo Valbelluna, l'approfondimento del Corriere delle Alpi in merito al futuro dell'Eder Standard. I dipendenti ci credono un po' di più, ora fateci tornare leader del mercato. Voci di speranza dopo l'Assemblea, vorremmo lavorare a pieno ritmo la nuova cordata del vecchio Una Garanzia. Ieri il confronto con i sindacati, sul tavolo presentate le ultime prospettive. L'approfondimento a firma di Dante Damin. C'è ancora un futuro per l'Ider Standard di Tricchiana. Lo pensano gli operai alla conclusione dell'Assemblea di ieri, durante le quali i sindacati di categoria hanno presentato l'offerta di acquisto della cordata Veneta, che comprende anche Leonardo Del Vecchio, rappresentata da Banca, Finint, Delphin, Luigi Rossi, Luciani e gruppo Progest. Con un mattone alla volta verso il futuro della fabbrica Casanova, siamo fiduciosi di chiudere nelle prossime tre settimane. Deola, prospettive più certe, è stato d'animo degli operai. Positivo l'approfondimento, quindi. Lo troverete in questa edizione del Corriere delle Alpi. E anche un'altra azienda interessata a una rivoluzione è la ex ACC. Crisi in Valbelluna, di questa notizia ne abbiamo trovato anche leggendo il gazzettino di Belluno. Assunzioni di sesta scaglionate nei mesi per gli operai ACC, cassa fino al 2023. L'amministratore delegato Michele Fagioli sarà una crescita progressiva. Per chi vuole c'è la possibilità di fare esperienze all'estero. Siamo a pagina 26. Incubo finito per il papà portato in tribunale, ferito nella denità. Ma sono come rinato. A Gordino assolto in appello dopo la condanna a nove anni per violenza sulla figlia. Dico grazie a mia moglie, l'articolo a firma di Gigi Sosso. Rinato dopo la sentenza, il padre a Gordino che rischiava nove anni di prigione per violenze sessuali su una figlia adottiva è tornato in vita. Tra il processo con la condanna e l'appello con la soluzione è passata un'eternità di sofferenza. Prima additato in paese come un orco per non parlare di quello che gli sarebbe successo in carcere secondo l'implacabile codice dei detenuti. Poi la fine dell'incubo con una chiamata del nuovo avvocato difensore Cesare Stradaioli. Quando la sua esistenza è finita nel frullatore, la sua dignità di uomo e papà si è lamentata come se fosse stata ferita. Mi sono certamente sentito ferito nella mia dignità personale perché ero estraneo alle accuse. Allo stesso tempo ho provato una grande amarezza perché temevo che in questa vicenda ci andassero di mezzo le mie figlie. Passiamo a pagina 27. Verso i giochi olimpici siamo ovviamente a Cortina. Il sindaco Ghedina parte per prendere la bandiera. Sono emozionato. Momento storico. Il sindaco Decolla oggi verso Pichino assieme a Beppe Sala. Tornerà in Cina a marzo per accogliere il drappo paralimpico. Impianti. Il comune torna in campo per accelerare sulla pala Curling. Notizia che riguarda sempre Cortina. Passiamo invece adesso a Pieve di Cadore. Via tra i dipendenti. Comune in affanno di missioni in contemporanea per i lavoratori che erano in servizio da oltre 25 anni. E adesso eccoci arrivati alla rubrica Cultura e Società a pagina 29 del Corriere delle Alpi. Il pensiero di Diano entra tra i grandi cacciari. La sua opera ora sarà compresa. Grecista, traduttore e filologo all'Università di Padova. Il volume opera e consacra il suo valore anche di filosofo. Dalla rubrica Giorno e Notte dedicata alla provincia di Belluno. L'anniversario. Arte nuova festeggia i vent'anni di musica. Vogliamo allacciare i ponti con la cultura. Doppio appuntamento domenica al comunale. Si parte al mattino con i gruppi giovani. Poi ospiti e tante esibizioni. E adesso lo sport bellonese con due belle notizie. Incominciamo con quella riferita al calcio di Serie D in recupero. Riscatto della Dolomiti-Bellonesi a Mestre. Al Baracca decidono Posocco e Unescu. Gara molto concreta dei Blancos. Vantaggio sul rigore. Pariggio alla mezz'ora e gol partita al terzo della ripresa. 1-2 il risultato finale tra Mestre e Dolomiti-Bellonesi. E ancora altro sport di successo. Volley Serie A3 in recupero. Notte magica della Darold. Macerata va a KO al tie-break. Grande prova di carattere dei bellonesi che riscattano la partita di Torino. Partenza lenta. Poi una lunga progressione fino al trionfo finale alla Spess Arena. 3-2 tra la Darold-Belluno e il Macerata. Calcio A5. Recupero di Serie B. Il Sedico spreca il match ball e si fa raggiungere dall'Isola. 4-4 il risultato finale tra Jorik Sedico e Isola. Ancora sport. Calcio a seconda. Dopo la gara del 6 giudice Stanga la Fulgor. Bortoluzzi siamo allibiti. 8 giornate di squalifica per Federico Dalpaus. E 2 ad Alberto Dalpaus. Le cose scritte nel referto non corrispondono alla realtà. Ok Alps League. Final 4 da dimenticare. Cortina alle 19 sul difficile ghiaccio dello Jazz and Ice. Ancora ok. Serie B. Alleghe stasera a Cavalese. Obiettivo secondo posto. E adesso passiamo. Anzi, leggiamo una notizia che riguarda le Olimpiadi di Pechino. Perché vediamo ovviamente in primo piano un'italiana. Star Trek. Arianna Fontana. Argento nei 1.500 metri. È l'azzurra più medagliata della storia. Continua però lo scontro con la federazione. Ecco alcune sue dichiarazioni. Nonostante quello che ci hanno gettato addosso. Sono fiera di essere italiana e mi ritirerei piuttosto che correre per altri. Dicono che mi riaccoglieranno. Hanno chiesto di sottostare alle loro regole. Se l'avessi fatto non sarei qui. Anthony ha sempre creduto in me e mi ha promesso che avrei lottato per una medaglia a sogni distanza. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani. Cielo sereno poco nuvoloso. Con probabili nebbi in pianura e nelle valli. Nelle ore più fredde. Precipitazioni assenti. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20 domani mattina all'Una ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Grazie a tutti. Grazie.